Marisa Tomei, Josh Hartnett, il bagno di folla per Paola Cortellesi e Riccardo Milani, i concerti e le convention tra produttori, sono alcuni dei momenti della prima edizione del film In Italy Sardinia Festival di Claudio Masenza e Tiziana Rocca, che in chiusura hanno scelto la masterclass di uno dei registi italiani più popolari, Gabriele Muccino. Basti vedere il successo di A Casa Tutti Bene, il suo ultimo film, ma il Muccino Touch si può insegnare? Certe cose che posso raccontare possono accorciare i tempi di apprendimento, che per me sono stati magari di dieci anni e per chi mi ascolta possono diventare sintetizzati nell'arco di un paio di ore, quindi questo può essere un vantaggio sicuramente. A Casa Tutti Bene viene considerato il film del figlio al prodigo, dopo le avventure hollywoodiane che hanno portato Muccino a dirigere Russell Crowe, Uma Turman o Will Smith, ma fare un film, dice, non è questione di geografia. Fondamentalmente quello che mi ha portato a Hollywood o che mi porta a Ischia è comunque la voglia di raccontare storie. Non si pensa in funzione di dove girerò il prossimo film, ma cosa racconterò nel prossimo film, questo è il sentiero fondamentale. Percorsi che lo hanno riportato in Sardegna, da dove riparte con il premio intitolato Annanni Loy e Ricordi sulla Cresta dell'Onda. Sardegna per me è tanta vita vissuta negli anni del liceo e negli anni della mia ambizione di diventare regista, perché parallelamente io ero e sono rimasto nell'animo un windsurfista e in Sardegna ci sta il vento, quindi io mi sono abbattuto tutte le coste sarde con windsurf e questo non si sa, ma io la Sardegna la conosco molto bene, particolarmente le coste più ventose. Grazie.